Passeggeri in calo e voli tagliati, questi sintomi della malattia dell'aeroporto d'Abruzzo secondo il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Provinciale di Pescara Antonio Di Marco che ha presentato un dossier con i dati rilevati da ASA Aeroporti alla Commissione Turismo della Provincia presieduta da Ettore Pirro. Per Di Marco le affermazioni della dirigenza Saga, la società che gestisce lo scalo pescarese che annunciavano passeggeri in aumento e sorpasso sull'aeroporto di Ancona non corrisponderebbero a verità secondo la rilevazione a giugno 2012 i passeggeri internazionali sarebbero diminuiti del 10% con un trend negativo anche per luglio, dal più 43 di gennaio dunque al più 2% del periodo gennaio-giugno poi ci sono le rotte cancellate come il collegamento Pescara-Toronto insomma per Di Marco l'aeroporto d'Abruzzo è un malato da curare immediatamente abbiamo incontrato con la Commissione Turismo di cui rivesto il ruolo di Vice Presidente la struttura dell'aeroporto sia il direttore che il Presidente Lavoreti loro ci hanno dato notizie confortanti rispetto all'evoluzione positiva dei passeggeri che transitano l'aeroporto di Pescara sia a livello nazionale che internazionale hanno dato delle giustificazioni sulla cancellazione del volo Toronto-Pescara e successivamente a questo incontro abbiamo approfondito i dati che AS Aeroporti fornisce a tutti e ci siamo resi conti in queste settimane che i dati che l'aeroporto ufficialmente ci ha forniti nella riunione che abbiamo fatto sono esattamente diversi da quelli che noi sapevamo in questa riunione c'è un tracollo vero del flusso turistico che arriva su Pescara che non arriva più ci sono molti voli soppressi di cui non si parla da due anni il volo cargo non c'è più a Pescara e c'è anche una fase del restyling dell'aeroporto che è fermo non sappiamo cosa accadrà in tal senso insomma noi vogliamo chiarezza e vogliamo che di questo argomento se ne occupino soprattutto anche le commissioni competenti alla regione la commissione di vigilanza che è stata convocata e che evidentemente non è stata sufficientemente supportata dai dati reali e su questo noi andremo avanti perché vogliamo che il presidente Testa si faccia carico di una chiarezza necessaria a livello internazionale per parlare di Pescara come città traino dell'economia abruzzese